Ciao! Parliamo di hacking, map hacking. Che cosa vuol dire? Intanto partiamo subito da questo per chi non lo sapesse e chi non conoscesse l'inglese. Il concetto è un cheat, un modo di barare per vedere tutta la mappa come se non avessimo la nebbia di guerra. La nebbia di guerra è quella che ci impedisce di vedere dove non abbiamo la visione, dove non abbiamo le world, dove non ci sono i minion, dove non ci sono i nostri compagni, dove non ci sono le torrette e così via. Ci sono dei punti nella mappa che noi non vediamo perché sono tutti scuri per la nebbia di guerra. E questo map hack dà la possibilità a chi lo sta utilizzando di vedere tutta la mappa in modo completo e chiaro. Prima di procedere nel mostrarvi esempi di quello che è successo, persone, pro player, altri content creator che hanno parlato di questa cosa, vi dirò perché sto facendo questo video. In genere non lo volevo fare in realtà. Cioè nel senso non è una cosa che mi piace fare perché non mi piace dare più informazioni riguardo a qualcosa di potenzialmente problematico perché poi ci stanno le magari 100 persone che guardano il video, 90 che oh cavolo è interessante, mi informo in maniera positiva e ci stanno quei 10 che invece magari scoprono che esiste questa cosa per andare a cercare di farla e quindi di impattare in maniera negativa. Però è anche importante come content creator italiano che io vi porti un punto di vista intanto mio personale e poi proprio essendo ecco l'unico a portare questi contenuti a darvi ecco le novità anche in questo caso. Quindi il video è di natura tendenzialmente informativa, ma non lo fate, ma ci ritorniamo su questo punto. Partiamo intanto con il dire che la cosa proprio che mi hanno chiesto tutti, ma è vero questa cosa? Esiste questa cosa? Sì, esiste questo cheat, esiste questo hack. Per fortuna non è così tanto utilizzato come le persone vogliono far credere. Nel senso che alcuni personaggi che sono in Eigelo o alcune persone che giocano tanto a questo gioco sono lì tipo a dire oh mio dio tutti i game c'è qualcuno che sta mappaccando ed è un po' esagerato. In realtà non è così tanto condiviso, per fortuna direi, o per ora spero. Insomma, cioè spero che non diventi una cosa troppo utilizzata. Però il concetto in questo caso è che non è così tanto disponibile come molti credono. A volte semplicemente avevano un award, c'era la visione, hanno avuto fortuna e così via. Poi ci sono ovviamente degli esempi come quelli che andremo a vedere che ci fanno capire che effettivamente quella persona stava hackando. Però per poi controllarlo voi stessi nelle vostre partite dovreste andare a vedere il replay, vedere alla perfezione quella situazione mettendo la nebbia di guerra nella maniera corretta e in base a determinate cose, come vedremo anche appunto negli esempi, sarà più chiaro o meno capire se effettivamente quella persona stava hackando o no. Quindi sì, esiste, no, non è così tanto presente e così tanto utilizzato. Ma vediamo qualche esempio. Intanto persone che ho menzionato poco fa come content creator, in questo caso sono Don, che è un content creator e un pro player di Wild Rift. Poi abbiamo Dark Breaker, un content creator, forse il più grande content creator di Wild Rift, in questo caso inglese. Abbiamo sempre Don e qui. E Monover, che ogni tanto fa Twitch, non so se lo fa ancora, ma comunque content creator e o giocatore a livello comunque molto alto, è top, sta sempre in top nel server, è stato anche top 1 e cose del genere, che hanno condiviso delle loro informazioni. Partiamo da Don, che vi faccio vedere direttamente qualche clip qui. La prima clip fa vedere come questo Veigar possa andare, vedete qui lui non ha, ecco questo quello che intendevo prima con la visione, Veigar in questo momento qui non ha visione. Questo qui è un replay messo con la visione della squadra rossa. Guardate che cosa va a fare, va a mettere la gabbietta, utilizza la seconda abilità esattamente nel punto dove c'è quella persona e poi utilizza la suprema. Ovviamente poi ha preso visione utilizzando le abilità, ma la precisione con cui l'ha fatto è stata una roba assurda. Infatti qua fa vedere anche dal punto di vista di Yasuo. Yasuo che sta camminando, se ne va tranquillo. Yasuo non ha visione di Veigar, li vede per un attimo lì. Si va a piazzare in questo angolino qui per recollare, vedete sta recollando, lui fa lo switch delle visioni, quindi non si vedono le varie visioni. Non c'è vision su Yasuo e vedete Veigar che arriva precisissimo a fare questa roba qui. Poi sempre lo stesso Veigar nella stessa partita, guardate qui cosa va a fare. Dietro il muro, senza visione completa, qui è completamente oscuro, prende, fa la gabbia e utilizza la seconda abilità per rubare lo scatto che stava camminando in quella direzione. Cioè è una roba di una precisione imbarazzante. Quindi in questo caso si vede tantissimo. Poi il video di Dark Breaker in realtà va a riprendere il prossimo video che vi farò vedere. Metterò anche io un blocco in mezzo allo schermo affinché non si veda il link del map hack perché non è qualche... Cioè voglio parlare della roba ma non voglio che le persone trovino facilmente questa cosa. Non lo utilizzate. Arriviamo su questo discorso anche tra poco. Infatti qui promuovono questo cheat. Adesso anzi nascondo un attimo la mia telecamera così potete vedere quello che c'è scritto sotto. C'è scritto... Vedete le features per poter... Cioè di questo map hack. Quindi vedete tutti i monster in jungle. C'è il 60% camera hack che credo sia anche lo zoom con il quale potete giocare. Lo zoom proprio alzato. Quindi vedere un po' più in alto. E anche questo molto comodo. Vedere i nemici sulla mappa. Quindi vedere sempre i nemici sulla mappa a prescindere dalla loro posizione. E vedere tutte le world dei nemici. Quindi andate a vedere qui adesso c'è questo cane che lo sta utilizzando. Vedete come vede attraverso i muri nonostante ci siano le... Cioè non ci sia la world. Vede Luxe lì dietro. Va quindi a fare la combo. Anche qui c'è la world nemica ma lui la vede lo stesso. Cioè nel senso non ha una sua world. Qua lui che sta farmando lo vede. Proprio posizione perfetta sempre di tutti i nemici. Sulla mini map. Ecco guardate ad esempio qui in alto a sinistra che c'è Xayah che sta arrivando dalla base. Dentro alla fontana. E comunque si vede. Quindi vanno a utilizzare questa roba qui. Anche qui abbiamo Monever che vi ho menzionato prima che ha messo 4 video riguardanti questa situazione. Diciamo che i primi sono un po' così. Cioè col seno di poi sappiamo che questa persona sta mappacando e quindi si vede... Cioè sappiamo che stava effettivamente barando. Però inizia con il tirare qui vabbè la pallina dietro al muro e prendere alla perfezione la persona che stava lì dietro. Vedete adesso tira la pallina qui dietro al muro e prende il timo. E va bene così. Poi andiamo sulla seconda clip dove invece va a... Questa qui mi sa che va a tirare sempre la palla nella posizione perfetta. Però ci potrebbe quasi stare. Cioè fin qui uno dice ok ha provato a tirare la palletta nel cespuglio. In top è qualcosa che potrebbe succedere. Qui la situazione inizia a farsi interessante. Infatti vedete Jace che va a tirare... Ecco vabbè qui prova a prenderlo mentre sta in stealth. Vedete Timo. Timo è invisibile raga. In questo momento Timo è invisibile. Non solo Jace adesso corre esattamente dritto per dritto verso Timo. Ma utilizza la forma del martello per mirare Timo. Vedete ha mirato lui. Non ha mirato altri punti. Ha mirato Timo. E non si può utilizzare la prima abilità di Jace senza un bersaglio. Non la puoi usare a vuoto. Questo vuol dire che era in grado di vederlo mentre era invisibile. E infatti quindi poi è andato ad ingaggiarlo e a scoppiarlo. Vi faccio notare che il nome di Jace è lo stesso di Veigar. Ram, vedete qua qualcosa. Ragazzi è il top 7 della... Era il top 7 in Europa questa persona. C'è poi l'altro succoso video finale invece con Jace. C'è poi anche qui altri esempi che fanno vedere. Vedete lui che sta qua dentro tira la combo dove non ha completamente visione. Questa qui è incredibile. Cioè guardate qui fa il giro tira... Adesso tira la palla qua e istantaneamente salta. Cioè questo vuol dire che aveva già premuto il tasto. Cioè è un recall molto particolare. Cioè poche persone si fermano a recallare qui. La cosa che vi faccio notare è che lui va a tirare la palla e dici vabbè magari la sta tirando verso di qui ma non ha neanche usato il cancello. Questo è importante perché la palla non sarebbe arrivata qui senza il cancello. Quindi non va a usare il cancello e mentre ha tirato la palla già va a cambiare la forma cannone per poter saltare su... Cioè scusatemi la forma martello per saltare subito dalla parte opposta del muro e andare a prendere quindi Sivirly. Quindi tornando alla questione il concetto è ci stanno lavorando? Sì stanno già bannando questa persona è già stata bannata altre persone sono state bannate il problema è se diventa molto di più dominio pubblico se persone... cioè queste comunque sono stati sgamati da altri content creator che quindi lo hanno fatto notare se ne sono accorti non tutti potrebbero accorgersene. A volte magari uno sta giocando e neanche ci fa caso dice cavolo questo come lo sapeva però non sempre va a pensare che stava mappaccando. Ha senso utilizzarlo? Assolutamente no! Ci sono milioni di motivi per non utilizzarlo. Intanto vi bannano cioè probabilmente vi bannano le cose sono due o mettono, implementano qualcosa che impedisce a questo sistema di funzionare e bannano oppure continuano a bannare la gente che lo fa e magari andare a perdere tutto quello che avete fatto su Wild Rift per aver mappaccato mi sembra una stupidaggine. Uno, non lo fate solamente per provarlo cioè lo fate una volta e poi basta dite solo perché siete curiosi rischiate di farvi bannare ancora peggio che a farlo cioè in quel senso uno che lo fa conscientemente dice vado a barare tutto il tempo sa a quello che va incontro farlo una sola volta è ancora peggio ancora più scema come cosa quindi non lo fate. In generale se lo volete fare per barare non lo fate perché uno vi bannano due non siete più forti cioè a che serve salire di rank se salite in questo modo? Il vostro rank è finto sì forse qualcun altro potrebbe pensare oh dai è bravo è arrivato a Challenger ma voi lo sapete lo sapete che l'unico modo che avete avuto per salire è stato quello di barare unico problema direi che di recente la Riot è stata un po' lenta a sistemare determinate situazioni e quindi sono un po' preoccupato nel momento in cui diventa qualcosa di più virale e utilizzato specialmente sotto la pausa natalizia dove tendenzialmente vediamo ecco una compagnia che va un po' al beh sì abbiamo preparato tutto le cose andranno gli update escono ma niente cambiamenti proprio succosi un altro problema importante quindi oltre a riconoscere capire quando effettivamente è così sono i booster persone che utilizzano account per boostare e che vanno a fare questa cosa e in quel caso non gliene frega niente magari anche di essere bannati perché usano account che se vengono bannati amen se nel frattempo ci sono riusciti a boostare 10, 15, 20 persone si riescono a prendere comunque i soldi e si riprendono poi altri account o cose del genere nota invece un po' meme è se giocherete contro qualcuno con il mappa che forse vi potrete sentire un pochino come me quando vengo stream sniperato cioè con le persone che guardano la mia minimappa che ascoltano le mie call che sanno dove sono che vengono a cercarmi che mi levano i pic e così via quindi ecco vi sentirete quantomeno un po' jumpy allen mi dispiace per voi in realtà sto ovviamente memando comunque veramente non fatelo vi ho parlato di questo problema di questa cosa perché mi è stato chiesto da tante persone cosa ne pensassi e io penso che sia veramente una cosa stupida da fare una cosa stupida da pensare di utilizzare non fate queste stupidaggini e penso che comunque non sia così tanto presente come alcuni ci vogliono far credere c'è questo problema al momento non è una piaga incredibile però speriamo che non lo diventi fatemi sapere cosa ne pensate giù nei commenti io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine vi invito a lasciare un like iscrivervi al canale e come sempre vi auguro una buona serata delle buone ranked senza map hackers e ci vediamo al prossimo video